Sarà una settimana con diversi eventi dedicati ai 150 anni dalla nascita di Ferruccio Busoni, quella che prenderà il via questo venerdì alle 17.30 presso Palazzo Gobcevic con una conferenza di Daniele Spini e a seguire alle 20.30 con un concerto presso la Sala del Ridotto del Teatro Verdi eseguito dall'orchestra da camera che a Busoni è intitolata. L'artista nacque a Empoli il primo aprile del 1866 da padre empolese e da madre triestina e quindi ebbe la sua formazione artistica nella nostra città. Ferruccio Busoni è figura chiave del panorama musicale di fine ottocento e primi anni primo quarto del novecento e una figura con un forte radicamento a Trieste che ha diviso la sua vita tra Trieste e Berlino anche se è nato a Empoli. trova ragione in questo la decisione di celebrare i 150 anni dalla nascita con una settimana di incontri, di conferenze e di concerti realizzata con una grande collaborazione locale tra tutte le istituzioni e gli enti che si occupano. La settimana busoniana organizzata dal comune di Trieste insieme al civico museo teatrale Carlo Schmidlo, al Circolo della Cultura e delle Arti, alla Società dei Concerti, al Conservatorio Tartini, all'ente teatrale del Friuli Venezia Giulia e alla Fondazione Teatro Verdi, proseguirà quindi martedì 5 aprile alle 17.30 al Museo Teatrale di Palazzo Gobacevic con un concerto degli allievi del Conservatorio Tartini per concludersi venerdì 8 aprile, sempre alle 17.30, con la pièce teatrale in atto unico, ero primo d'aprile, scritta da Giuliana Stechina e dedicata alla vita familiare di Ferruccio Busoni.